Ok, grazie per la linea. Mino, dunque, come dicevi, è una situazione abbastanza confusionaria. Abbiamo nei nostri sudi il sindaco di Nocera Inferiore, Maglio Torquato, che ringraziamo per essere qui, perché questa mattina si è reso protagonista di una missiva scritta al prefetto di Salerno per mettere in evidenza ulteriormente un aspetto importante, forse determinante per voi sindaci, quello della mancata comunicazione dei dati rispetto ai contagi nelle città. Lei, insieme al dottore Stile, ha scritto al prefetto di Salerno e al direttore generale dell'ASL per capire il motivo di questa confusione e soprattutto la risoluzione di questo problema. Sì, abbiamo scritto una nota. Io e il dottore Enzo Stile, che è il presidente della Commissione Consigliare Speciale Sanità e che è parte organica del lavoro dell'Unità di Crisi Territoriale della Protezione Civile Comunale di Nocera Inferiore, evidenziando un problema che ormai ha superato gli otto giorni, tranne una parentesi l'altro ieri con dei dati che ci sono stati trasmessi, ma molto imprecisi. I comuni, lo spiego ai cittadini, hanno assolto ad una funzione di collaborazione con la Sanità Territoriale di Prevenzione Collettiva di Dipartimento nella individuazione, nel tracciamento dei contatti dei soggetti positivi al Covid. Trasmessi questi dati a noi in sede di protezione civile e a nostra volta alle autorità, delle forze dell'ordine, hanno permesso di svolgere un'attività di controllo territoriale della diffusione del contagio, di dare una mano all'ASL, che è quella competente per legge, a fare questo tipo di lavoro e soprattutto a controllare il rispetto della quarantena da parte dei familiari, ad esempio, dei soggetti risultati positivi. Da circa otto giorni siamo privi di questi dati. L'unico elenco ripetutamente sollecitato ci è pervenuto nella giornata del 21 ottobre in serata. È un elenco discutibile dal punto di vista della sua piena attendibilità perché abbiamo rinvenuto almeno dieci persone nei complessivi elencati che non erano di nocera, alcuni che invece risultavano già guariti da alcune settimane, mentre era totalmente privo del riferimento dei familiari e degli indirizzi specifici delle persone. Quindi questo non ci permette lo svolgimento di un lavoro. Sono qui non per lamentare, visto che la funzione che il Comune di Nocera ha assolto è stata sempre di piena collaborazione con la struttura ospedaliera, con i dipartimenti territoriali. Qui va il nostro ringraziamento con i medici di Dipartimento di Medicina Collettiva, di Prevenzione, con gli ospedalieri, con gli infermieri, ma per far comprendere che questo serva ai cittadini, questa notizia, a non lasciarsi andare ad un liberi tutti, anche se ci sono ritardi nel rilascio dei tamponi da parte degli ospedali. Il problema è che questo si fa addirittura di 15 giorni di comunicazione ai medici e ai pediatri. Questa è l'evidenza di un sistema sanitario locale, territoriale, regionale o provinciale, non saprei dire, che ci comporta delle grandi difficoltà di organizzazione nel seguirlo, perché non sono quello che fanno i sindaci o i comuni. Però è l'occasione per noi, per fare appello ai cittadini, a dire, guardate, se sapete che nell'ambito della vostra famiglia c'è persona positiva, non vi lasciate andare in giro a camminare per strada come se nulla fosse. Siete sottoposti a vincoli di quarantena, quindi anche se c'è una difficoltà al controllo legata a motivi non riconducibili ai sindaci, non riconducibili alle forze dell'ordine, magari difficoltà proprio di sovrannumero di lavoro della stessa sanità territoriale, siate rispettosi della regola, per cui dovete stare in casa, dovete mantenere la quarantena fiduciaria, far rispettare al vostro congiunto l'isolamento fiduciario di persone e attendere purtroppo questi tempi più lunghi che si stanno generando per queste ragioni che stiamo spiegando, ritardo nelle risposte di tamponi, cattivo tracciamento, mancanza di dati. A questo bisogna fare fronte con una risposta civica, cioè una risposta di responsabilità civica da parte di ciascuno di noi in un momento che è particolarmente difficile. Io sono qui per rivolgere un appello a tutti quanti, a dire, guardate, l'amministrazione comunale c'è, la protezione civile c'è, le forze dell'ordine sono operative, diamo una mano in questo momento ad una sanità che è in difficoltà, in affanno, perché è l'unica forma con cui possiamo collaborare seriamente da cittadini delle nostre comunità e dare una mano a noi stessi, alla nostra collettività, per limitare la diffusione del contagio. Ecco, in maniera coscienziosa, diciamo, ai cittadini che tra l'altro da quest'oggi, da questa sera saranno chiamati anche ad un'ulteriore azione di restrizione, quella del coprifuoco che scatterà alle 23. Come siete organizzati? Io lo chiedo a lei perché sindaco della città capofila, dove la movida nei fine settimana soprattutto, la fa da padrono. Il coprifuoco diciamo che è un termine improprio, non lo usa lei, lo usa tutta la stampa nazionale, diamo una misura alle cose, non si spara con le pallottele, quindi fortunatamente è una prescrizione sottoposta a forti sanzioni di contravvenzione, di denunzia, qualora si dovesse contravvenire a questa regola, che obbliga tutti a stare alle 11 a casa propria, salvo che per le note motivate, documentabili ragioni di lavoro, di spostamento per ragioni di salute inderogabili o indifferibili motivi documentati e compromabili. Altrimenti si sta a casa. Quindi noi abbiamo contattato la prefettura, abbiamo chiesto un supporto logistico organizzativo anche alle nostre forze di polizia locale, che sono state precettate, ma era un servizio che Nocera già faceva nei fine settimana, fino alle ore 24 a fare servizio di pattugliamento, insieme a polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza. Io ho chiesto al prefetto, con invia informale per il tramite del capo di gabinetto, anche alla luce di un precedente coordinamento dell'ordine alla sicurezza pubblica di qualche settimana fa, che riguardava le città maggiori della provincia, Nocera, Cava, Battipaglia, Eboli, Salerno, Scafati e Sarno, di avere un supporto operativo maggiore. Nocera già da tempo in autonomia, come penso si ricorderà, a prescindere dal coprifuoco, faceva in ragione della Movida il pattugliamento serale fino alle 24, con la presenza anche delle forze dell'ordine, oltre che della polizia locale. Adesso ci vuole un occhio in più. Al di là dell'opinione che ognuno di noi può avere su questo tipo di restrizione, io per esempio penso che si poteva ben individuare alle ore 24 e non alle ore 23, proprio per consentire alle attività commerciali nella fascia oraria 23-24 di attrezzarsi alla chiusura, invece così si anticipa tutto di un'ora. e Lazio ad esempio applica le 24, non applica le 23, mentre invece la Lombardia, come la Campania, applica le 23. Ma ripeto, al di là delle opinioni, noi siamo in un momento in cui c'è una crescita notevole dei contagi. E per quanto io sia uno di quelli dichiaratamente abinizio contrario ad un lockdown, debbo anche dire che anche qui il senso di responsabilità, soprattutto dei giovani, deve essere massimo. Si porta il contagio a casa. E se è vero, come è vero, che in termini percentuali, in proporzione, rispetto all'elevato numero di casi, è molto più basso il numero dei ricoverati in ospedale e in terapia intensiva, è anche vero che essendo in assoluto più alto il numero dei casi, questo meccanismo della proporzionalità non ci può tranquillizzare proprio per niente, perché sta aumentando così vertiginosamente il numero assoluto dei contagiati che alla fine stiamo tornando ad avere ospedali pieni e terapie intensive, Dio non voglia occupate. Quindi, Sindaco, lo diciamo da questa sera, tutti a casa, entro le 23. Altrimenti... Per notizia non mi piace fare la parte del rigoroso in momenti in cui già si vivono difficoltà, ma riferisco per senso del dovere civico e quindi invito. Abbiamo sanzionato l'altro ieri cinque attività commerciali di questo tipo di ristorazioni perché erano in totale violazione di regola, tra posti occupati, confusione sui marciapiedi, genera aggruppata, saranno chiusi per cinque giorni. Adesso le sanzioni che stabiliamo non noi, stabilisce la Regione e il Governo, saranno ancora più pesanti. Quindi, datevi una mano e dateci una mano perché il momento è particolare. Rispettiamo le regole. Grazie. Grazie Sindaco, grazie ovviamente Minu, ti ricediamo la linea.